Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale! Natale sta arrivando e se vogliamo realizzare delle decorazioni fai da te, dobbiamo iniziare subito! Oggi vi mostro come realizzare questa candela che mi piace molto e che mi ha aiutato a riciclare uno di questi rotoli di nastro che avevo finito. E adesso vi lascio al tutorial! A dopo! Grazie a tutti! 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 Nelle prossime settimane vi mostrerò qualche altra idea natalizia. Se non volete perdere questi video basta iscriversi al mio canale, il link lo trovate qui e nell'info box. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!